in questo video vi devo dire una cosa importante che nei prossimi video farò un video generale dove vi farò vedere questi audio perché ho trovato degli audio molto importanti di cui dicevano che i senatori un po tutti mertens rayekon insegne allan uribali un po i senatori della nostra squadra dicevano che noi c'è detto invece andiamo dal ritiro quindi loro hanno acceso la miccia tutto è iniziato da loro quindi senatori sono stati loro quindi abbiamo scoperto che però vi faccio vedere sono audio sono audio importanti che mi ha mandato una persona in privato di cui la ringrazio perché non sapevo più che fare questa è una prova che incastra tutti i senatori per adesso parliamo un po di angelotti in generale stavo cercando questa prova da parecchio stavo cercando audio audio mi arrivato il messaggio su whatsapp ho detto lo devo fare il video quindi ve li farò sentire su un video quindi niente adesso mi stanno arrivando un sacco di messaggi scusate è classico il tipo il tipico quindi poi angelotti che secondo me se ne deve andare perché non do un po di cattiveria i giocatori quindi io io penso che angelotti non da quella grinta io penso che io se fosse angelotti tornerei di nuovo a sabato io direi raga vi dovete svegliare dovete cacciare tutti gli attributi per fare un ottimo secondo tempo devono urlare angelotti li deve urlare li deve sgridare li deve cioè non lo so che angelotti lui non c'ha grinta non c'ha voglia allena solo metti il modulo con le formazioni e affatto a noi serve un allenatore che deve dare grinta forza alla squadra forza agli avversari quindi quindi noi dobbiamo avere una squadra forte forte e chiaro quindi raga iscrivetevi al canale e attivate la campanella quindi io penso che angelotti out questa è la prima parte di tanti video che poi vi farò vedere questi audio famosi quindi secondo me hashtag angelotti out e poi prima di finire il video auguro un bocca al lupo a Vincenzo Euloggio il mio amico che inizia su youtube aperto un canale youtube vincenzo euloggio iscrivetevi al suo canale e attivate la campanella iscrivetevi anche al mio canale e attivate la campanella matti biondo su youtube